Luca Dotto protagonista assoluto, oltre 700 atleti partecipanti, 2000 presenze gara, 50 società accreditate in rappresentanza di 7 regioni, numeri da record per l'appuntamento eretino che si è confermato punto di riferimento per il circuito nazionale. Una a due giorni di nuoto andate in scena a Monterotondo in occasione del meeting nazionale organizzato da Aria Sport in collaborazione con la FIN. Il campione europeo dei 100 stile libero in piena preparazione mondiali di Budapest si è aggiudicato la gara dei 50, successo nei 50 e 100 d'orso invece per gli altri due big. Il romano Matteo Milli della Niene è candidato ad un posto nella staffetta azzurra per l'appuntamento iridato e l'idolo di casa Francesco Bianchi. Grazie.